Prima prova percorso, come è andata e come ti senti? Prima prova percorso è andata, mi sento bene, sto bene, ho recuperato dopo gli europei. Adesso non riusciamo a provarlo interamente perché percorre lo stesso percorso degli uomini, nella crono, ma nel senso opposto, quindi siamo state un attimo rallentate dalla sicurezza. Però se lo abbiamo fatto a grandi linee abbiamo un'idea, un'infarinatura e aspettiamo domani di rivederlo con più calma e poi faremo le nostre valutazioni.